Amici di milan.soccer eccoci di nuovo insieme è sempre un piacere quando accendo la telecamera perché penso di essere con voi siamo diventati tanti e siamo tutti amici se mi posso permettere questa confidenza a volte siamo così confidenziali che mi prendo appunto delle licenze e me ne di parlare con voi e solo che per qualcuno queste diciamo piccole confidenze vengono tacciate a volte per poca concretezza oppure in alcune circostanze per poco a poco a pochi approfondimenti noi lo dico subito siamo un canale un po diverso non siamo giornalisti che non hanno uno sfogo e quindi utilizzano youtube non siamo pensionati che oltre alla pensione dopo tanti anni in televisione cercano un rifugio noi siamo solo tifosi siamo come voi però ci informiamo tanto perché ieri quattro video tutto il giorno in casa a cercare informazioni e notizie quindi questo atteggiamento credo che meriti rispetto solamente perché io ho detto che non voglio né dare ragione ad una parte né dare ragione all'altra quando voi parlate di questioni legali allora visto e considerato che il mio ambito solo ed esclusivamente perché c'è in piedi una procedura riconosciuta da parte di un tribunale ecco noi dovremmo essere solamente curiosi di capire come andranno le cose qui non ci sono documenti che qualcuno ha e qualcuno non ha rifaccio riferimento al fondo olandese a tutto quello che ne concerne nessuno ha la verità in mano altrimenti non servirebbero le procure c'è un processo in corso e diamo fiducia almeno la magistratura io perlomeno gliela do e poi se qualcuno non gliela dà perlomeno non venga qui a dire ho sentito quello che si è informato cosa si è informato i documenti ce l'ha la procura io rifaccio riferimento e si chiama divulgazione ad un articolo poi qualcuno è d'accordo qualcuno non è d'accordo questione relativa alla copertina allora la questione relativa alla copertina è quella relativa al fondo pif allora che cosa è successo qual è il tassello in più il tassello in più e visto che molti di voi me l'hanno chiesto io cerco di dare una risposta mi sono informato approfonditamente grazie amici che sono e che vivono lì e che in qualche modo mi hanno dato una mano dunque l'inter central inter ha provato a far ed è ancora in corso questa procedura a farsi acquistare da un fondo saudita in realtà non sarebbe neppure un fondo ma sarebbe una famiglia importante saudita che ha creato una diciamo così una 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 cordata e in questa cordata ci sarebbe stato il fondo pif il fondo pif però ha detto che non è interessato all'acquisto perché comunque aveva già avuto modo di considerare di valutare i conti della della società ma soprattutto perché e questo è quello che mi riferiscono persone che vivono lì e di cui si parla visto che ci sono anche lì discussione di questo genere è interessata solo a squadre che vogliono fare uno stadio ora voi direte ma anche l'inter vuole fare uno stadio l'inter non può che dire così visto che davvero il milan è intenzionato a farlo quindi il fondo pif sarà semmai uno dei partner di redbird nel momento in cui questo già l'ho detto ci sarà un diciamo così come posso dire ci sarà un una conclusione di questo procedimento non vedo l'ora di chi sarà la proprietà già molti già lo sanno hanno documenti ufficiali prova prove allora lasciamo perdere la magistratura incredibile davvero va bene non mi voglio arrabbiare e detto questo dicevo il fondo pif una volta chiusa la questione giuridica prenderà coscienza dunque del fatto che gerry cardinale è il proprietario del milan almeno così mi auguro altrimenti ne avremo un altro e dunque il fatto stesso dello stadio a proposito appunto dello stadio c'è una data questo invece è formale ed è il 4 giugno 2024 perché perché 13 cittadini di sandonato milanese appoggiati dal comitato del no dello stadio a sandonato a sandonato milanese e coadiuvati da un team di avvocati ha dunque fatto un ricorso un ricorso al tar questo ricorso al tar è un ricorso che il cui la cui udienza appunto si terrà il 4 giugno il sindaco squieri si dice tranquillo il milan si dice tranquillo anche se il mila continua a parlare con sala io mi chiedo cosa parlate a fare con sala che cosa parlate a fare con we build per la ristrutturazione leggera dello stadio io questo il mio punto interrogativo che cosa ci parlate a fare lo volete fare lo stadio lo fate comunque il costo per il comune di sandonato milanese per rispondere a questi 13 cittadini è stato di 15 mila 612 euro che è la parcella dello studio legale che andrà a difendere il 4 giugno la procedura diciamo così davanti al tribunale amministrativo regionale della della lombardia e che dunque potrebbe nel caso in cui dovesse essere accolta la richiesta dei cittadini fermare il procedimento che sta andando avanti per la costruzione del nuovo stadio ripeto squieri si dice tranquillo il milan continua ad andare avanti però appunto parla con il con 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 sala con sala detto questo io domani e dopo domani voglio approfondire bene la questione relativa all'ufficio stampa perché ripeto un paio di messaggi mi sono arrivati io purtroppo non riesco diciamo così oggi ma se ce la faccio ci provo se no domani perché l'ufficio stampa è uno di quegli elementi che al milan in questo momento non dico che non sta funzionando però non risponde secondo le logiche che sono tipiche di un ufficio stampa cioè se c'è un attacco da parte di qualcuno c'è un minimo di risposta è vero che poi l'ufficio stampa fa quello che gli dicono dal vertice però visto è considerato voglio andare a fare un po un'analisi su chi è questo ufficio stampa mettiamola così mettiamola perché le indicazioni che mi arrivano sono indicazioni che personalmente ritengo preoccupanti per quanto riguarda invece la questione della lega di serie a ecco qui c'è un'altra questione molto seria voglio fare un video leggermente sono fermo con la macchina tranquilli sono nel parcheggio quindi sono tranquillo allora dicevo per quanto riguarda la lega di serie a sta accadendo il putiferio l'avevamo accennato ieri e in questo caso diciamo che la lega serie a vorrebbe vorrà sfiducerà gravina e però il problema è che la lega serie a intanto la serie a passerà a 18 squadre l'ha detto anche scaroni questo perché ci sono troppe partite i calciatori rischiano come dire di avere troppi infortuni in questo caso dicevo che la questione relativa alla presidenza è una questione che fa davvero difficoltà a capirsi a capire cioè io faccio davvero difficoltà a capire perché perché è sostenuto da tutti dagli arbitri da quindi dalla lega degli arbitri dalla serie c dalla serie b in questo caso la lega serie a contano in federazione solo il 12 per cento e la lega serie ha detto basta per cui in questo momento c'è un una bagarre però se mai si dovesse andare voti pensate che il 12 per cento significa che ogni volta che gravina fa un diciamo così vuole approvare qualcosa ha una maggioranza incredibile quindi solo la serie a e questo mi fa un po pensare sul futuro della federazione io credo che ci voglia anche un intervento secondo me politico perché nel momento in cui questa federazione a mio modo di vedere rispetto ai risultati non porta nessun diciamo nessun buon risultato basti pensare alla nazionale a tutto quello che la nazionale in questo momento non riesce più a dare ormai da anni e oltretutto ha una serie di defiance del campionato di serie a io credo che questa questo questo atteggiamento così quasi monartico io credo che sia arrivato il momento di di cessarlo quindi la lega serie a è arrivata al dunque anche se insomma ci è voluto lotito e quindi sarà una guerra che non è veramente istituzionale ma credo che sia anche una questione politica da questo punto di vista va bene l'abbiamo fatta un po più lunga io spero di avervi dato le indicazioni che come dire vi facciano passare una buona mattinata ci vediamo più tardi nel pomeriggio ciao